Che c'è? Sono le luci Sta giù! Chi diavolo sono quei tizi? Signore! Stai indietro, cazzo! Joel! Metti il braccio attorno a me! Forza! Siamo al sicuro Joel! Joel! Ah, merda! Joel, dai! Alzati, alzati, alzati! Devi dirmi cosa fare! Forza! Devi alzarti! Joel! No! 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 riley sono caduta sul fianco cazzo pensavo mi avessero morsa lo so è stato fatto non vorrei uccidermi non ti vedo da non so nemmeno da quanto 45 giorni beh 46 tecnicamente vuoi sapere che ho fatto fino ad ora ti ho creduta morta già tieni guarda non ci credo sei ancora in stanza da sola ho dormito sotto all'ese per tre anni e sai quanto puzzasse quella ragazza c'è una luce lo conservi ancora che stai facendo voglio evitare che mi pecchino in stanza con una luce rilassati su questo piano non ci sono soldati tieni complimenti siamo a posto siamo a posto sono scomparsa e sei arrabbiata e ti devo delle spiegazioni andiamo via ti racconto tutto è quasi mattina e ho le esercitazioni militari sai dove ti insegnano a uccidere le luci su metti i pantaloni andiamo sono una cretina forza siamo mai finite nei guai oh merda dimmi che c'è qualcosa cazzo ecco qua ok ti giro sul fianco ok per un po' andrà bene cerco qualcosa per curarti ok callus dagli un occhio vado ma torno subito promesso non ce la posso fare bene e adesso dove cazzo vado non ce la posso fare non ce la posso fare Farmacia Weston. Speriamo bene. 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 Merda, spore. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Merda. Speriamo bene. 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 bene. Speriamo 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 bene. Moviglia хорошо. Speriamo bene. Perings, sono onde consegno di uscire, di cui amối Aye, vale detto qui, non svegliamo. cosa questo è winston e cavolo era un tipo affascinante bingo ne vuoi un po ma sono a posto meglio per me saluta winston è forte andiamo che ne è di princess beh immagino che è morto winston l'abbiamo presa povero cavallo sarà l'ha fuori terrorizzato diavolo è lì aiutami ad alzarlo sai che c'è forse ci conviene trovare un'altra via si va bene e guarda ho trovato un'apertura ok stai attenta lì dentro quando non sto attenta riley stronza è già la seconda volta oggi com'è che questo posto c'era sempre sfuggito vieni ho la maschera perfetta per te riley perfetta guarda qua che cos'è una specie di lupo mannarum mettila dai che stupida sì cazzutissima ruggisci roar belli sul serio un cazzo di ruggito sì così vediamo che altro c'è qui dentro wow guarda quanta roba guarda quanta roba schele leggente poni un quesito se hai il coraggio ok moriremo entro oggi niente che fregatura devi ruotarlo genio oh è tragicamente improbabile oh che sollievo riuscirò mai a giocare a un videogioco? le probabilità sono minime vaffanculo teschio mi cresceranno mai le tette? gli spiriti non si pronunciano eh non mi sorprende guiderò di nuovo un'auto? lo sento nelle ossa bene ah tripla fenice che ne pensi? adorabile ma grazie piccioncino ah ah da un'idea vedi quelle auto laggiù se la rossa è tua la blu è mia lanciamo mattoni chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince scherzi sono la regina dei mattoni ok chi perde risponde a una domanda senza sarcasmo che gioco è verità o verità d'accordo scema ci sto faccio pena ma dai guarda impara sì ti è piaciuto due andate centro bingo bene sì ecco diav ultima sì regina dei cazzo dei mattoni la mia aveva i finestrini più duri sì come no spiegata ok ora la domanda ho paura allora chi dice marlin di mia madre non molto da quanto ho capito erano amiche già prima dell'epidemia ah ne ha detto che tua madre era un'infermiera un'infermiera litigavano e discutevano sempre ma erano molto legate ti ricorda qualcuno dai devo farti vedere questa cosa ci siamo quasi perché siamo venute qui questo posto mi dà i brividi ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città si scopre che l'intera città corrente hanno solo spento gli interruttori basta riattivarli e siamo a posto è impossibile che funzioni che ti avevo detto c'è luce in tutto il centro commerciale andiamo a scoprirlo pronta per lo spettacolo aspetta io so cosa cerchi di fare e sono contenta e sono contenta tu non sia morta intendo è bello è bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo tutto quello che ho detto prima di andarmene non lo pensavo davvero riley sei una lagna hai cominciato tu stronza cavolo sei pronta sicuro che cosa è uno scherzo